Sono contento che fa riferimento all'app perché io lo porto sempre nella mia tasca. L'app è importante perché noi viviamo in un contesto in cui l'app riesce a dati le notizie più importanti e ad essere anche aggiornati su questo. Nell'app ci sarà la tessera, la carta del pellegrino. La carta del pellegrino è gratuita ovviamente, bisogna solo iscriversi e serve per quanti desiderano venire a Roma e attraversare la Porta Santa. Siccome i pellegrini saranno tanti, noi dobbiamo garantire che ci sia un vero pellegrinaggio, ma dobbiamo ugualmente garantire il momento della preghiera e quindi il pellegrino che vuole venire attraverso l'app può scegliere il mese, il giorno, anche l'orario della sua presenza e se sarà possibile secondo i suoi desideri l'app gli darà la possibilità di accedere, altrimenti dovrà scegliere un altro momento se è arrivato quando già è completo l'elenco. Però l'app serve a noi anche per tanti altri motivi. Ci può essere nell'app, ci sarà una seconda carta. Questa carta offrirà dei servizi. Questi servizi sono il vito, l'alloggio, l'ingresso nei musei, i trasporti, tanti servizi che vengono dati e saranno servizi dati esclusivamente ai pellegrini che verranno a Roma attraverso uno sconto particolare. Quindi il pellegrino noi desideriamo che possa essere sicuro di non essere ingannato da tante altre situazioni che non sono piacevoli e da ultimo noi possiamo dialogare direttamente. Il di Castero può inviare un WhatsApp, può inviare un messaggio al singolo pellegrino o al responsabile del gruppo per avvisarlo di qualsiasi cosa.